Domani si vota dalle 7 alle 23 per le regionali, a Zoaglie e San Colombano-Certenoli e anche per il sindaco. Lavagna in festa, è iniziata oggi la manifestazione che animerà la città del Borgo per quattro giorni. Visite oculistiche, la prossima settimana in diverse città del Tiguglio si potrà controllare lo stato di salute degli occhi in maniera gratuita. Treni in più per il 2 giugno, in occasione del ponte per le 5 terre Sestri Levante. Flashmob a Chiavari si è svolto questa mattina per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Si avvicina l'Andersen, a Expo 2015 a Milano, spazio anche per la KMS di Sestri Levante. Ben ritrovati dal TG Tiguglio, come avete ascoltato dai titoli apriamo con le elezioni che si svolgeranno domani. A mezzanotte è scattato la fine della campagna elettorale, oggi è giornata di silenzio in vista appunto della domenica di voto che vedrà le regionali e poi anche l'elezione del nuovo sindaco in due paesi del Tiguglio, Zoaglie e San Colombano-Certegno. Ma andiamo con ordine, partiamo con le regionali. Si vota dalle 7 alle 23. Domani si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione Liguria. L'elettore può tracciare un solo segno sul nome dell'aspirante Presidente se intende esprimere solo la preferenza per questi, con la croce sul nome o sul simbolo del Presidente più un'altra su quello di una delle liste che lo appoggiano. Si esprime anche il voto per la lista in questione in vista della composizione del nuovo Consiglio regionale, con la possibilità di indicare la preferenza per un candidato consigliere scrivendo nel cognome accanto al simbolo. 8 sono i candidati alla Presidenza. Antonio Bruno, progetto l'altra Liguria. Alice Salvatore, Movimento 5 Stelle. Luca Pastorino, reta sinistra e lista Pastorino. Raffaella Paita, partito democratico. Liguri per Paita, Liguria Cambia, Mirella Battini, fratellanza donne, Matteo Piccardi, partito comunista dei lavoratori, Giovanni Toti, Forza Italia, Lega Nord, fratelli d'Italia, alleanza nazionale e area popolare, Enrico Musso, Liguria Libera. E questo per il rinnovo del Consiglio regionale e per il ruolo di Presidente della Regione Liguria. Ma come detto, si voterà domani anche per l'elezione del nuovo sindaco e dei nuovi consigli comunali a Zoagli e a San Colombano-Certenoli. Non solo regionali. Nel Tiguria, infatti, si eleggono anche due nuovi sindaci, San Colombano-Certenoli e Zoagli. Tre candidati nel paese della Val Fontana Buona. Anna Aste, lista per San Cumban. Claudio Solari, lista territorio e sviluppo. E il sindaco uscente Giovanni Solari, lista nella continuità verso il futuro. I candidati a Zoagli, invece, sono due. Il sindaco uscente Rita Nickel, lista uniti per Zoagli, e Franco Rocca, vivere Zoagli. Come si vota? Sulla scheda compare il nome del candidato sindaco con il simbolo della lista a cui è associato. Si vota facendo un segno sul simbolo del candidato. Il voto al candidato sindaco si trasmette automaticamente alla lista collegata. Sotto al simbolo c'è lo spazio per il voto di preferenza, non obbligatorio, in cui si indica uno dei nomi tra i candidati presenti della lista collegata. Nei comuni inferiori a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza, ed è il caso dei due comuni. Una aperta dalle 7 alle 23 anche in questo caso. Viene eletto sindaco. Il candidato contiene il maggior numero di voti. Passiamo alla cronaca perché stanotte a Genova i carabinieri di Reco, insieme a quelli di Santa Margherita Ligure e i colleghi di Genova, hanno localizzato e tratto in arresto un marocchino di 24 anni senza fissa dimora poiché colpito da un ordine di carcerazione messo dal Tribunale del Capoluogo Ligure dovendo scontare la pena di un anno, 7 mesi e 26 giorni di reclusione per rapina aggravata. E si è svolta questa mattina l'inaugurazione della manifestazione Lavagna in festa. Questa mattina, come detto, erano presenti anche le nostre telecamere. Vediamo quello che è successo appunto a Lavagna. Inizia proprio in questo momento con l'apertura della mostra curata da Gettoviarengo e realizzata in collaborazione con la Società Economica di Chiavari alla Sala Rocca e con le iscrizioni alla mostra estemporanea curata da Curotto in memoria di Ugo Sanguinetti che poi proseguirà per la giornata di domani. Sono molto felice che, devo dire, l'afflusso di gente in città ha iniziato a vedersi quindi anche questa manifestazione porta un po' di lusso alla nostra città. Proseguirà con domani, con altre manifestazioni e sempre, mi stavo dimenticando, nella giornata di oggi ci sarà il carosello dei carabinieri che con le autostoriche gireranno per le vie e le piazze della nostra bella città. I commercianti che, grazie al consorzio, sono riusciti a coordinare tutti questi eventi in collaborazione con il Comune di Lavagna hanno lasciato i negozi aperti per questa giornata e per tutte le giornate che seguiranno la manifestazione con una particolare promozione all'esterno del negozio. Questo vuole essere un simbolo di una città viva e pronta ad accogliere i turisti per la stagione. Abbiamo fatto una scappata a Lavagna concordata grazie all'amministrazione comunale e abbiamo portato una parte dei mezzi che sono esposti a Chiavari in corso Valparaeso quelli più rappresentativi per la storia dell'arma. Qua ci sono una diecina di mezzi partiamo da un'antica ballilla militare chiaramente di anteguerra poi abbiamo delle AR-51 delle cosiddette Alfa Matta fabbricate dall'Alfa Romeo sarebbero state le fuoristrada derivate dall'antica jeep americana poi abbiamo una Giulia Super del nucleo radiomobile che proviene da Milano tra l'altro io ho guidato da giovane e poi abbiamo dei mezzi semoventi di fabbricazione sempre italiana che sono degli anni 50. Abbiamo visto i Carabinieri perché comunque è a Chiavari già da lunedì 25 maggio e si concluderà nelle giornate di oggi e domani c'è il raduno interregionale nord-ovest dei Carabinieri ma proseguiamo con Lavagna in Festa ieri abbiamo parlato degli appuntamenti per la giornata di oggi e domani ora vediamo quelli in programma per lunedì perché ricordiamo Lavagna in Festa durerà 4 giorni e quindi la città del Borgo grande protagonista in questi giorni di festa. Lunedì 1 giugno bambini protagonisti a Lavagna in Festa Lunedì 1 giugno a cura del Consorzio Centro Storico per i bambini bambini e musica i bambini in Piazza della Libertà avranno una grandiosa sorpresa che è la carrozza col cavallo e avranno anche animazione e intrattenimento per tutta la giornata grazie all'Arci Ragazzi con le sue incursioni giocose all'animazione di Pamela Sert e alla mamma Gianna che alle ore 18 racconterà una bellissima fiaba per i bimbi il divertimento per i bambini ci sarà anche a Lungomar Durandella Penna con Trucca Bimbi e Sabbiarelli e ci sarà anche in Via Matteotti con la Baby Dance la merenda con riciclo creativo e uno spettacolo di burattini il tema della musica sarà la sera la sera i locali del centro faranno quella che adesso si chiama Movida cioè musica dal vivo e gruppi in tutte le piazze avremo in Via Dante un'anteprima dello Zero Festival in Piazza della Libertà i Maghi di Carrots e in Piazza Vittorio Veneto Alex sono stati consegnati dalla Tiguliani i primi 600 euro a favore della Mensa dei Poveri promossa dai frati Capucini di Santa Margherita Ligure derivanti dal ricavato della vendita del libro fotografico intitolato I luoghi dello spirito curato dal fotografo Mariano Fontana il libro in vendita 20 euro la copia nel volume compaiono immagini dei luoghi di Padre Pio dei santuari di Loreto di Fatima Lourdes e Gerusalemme e prevenzione alle malattie legate agli occhi sarà possibile la prossima settimana fare delle visite specializzate in maniera gratuita in diverse città del Tiguglio in questo caso è proprio il caso di dire prevenire meglio che curare e nelle piazze del Tiguglio ci sarà l'occasione per fare una visita agli occhi grazie all'Unione Italiana Ciechi iniziate già lunedì con diversi appuntamenti sì diciamo che è un progetto che abbiamo fortemente voluto riproporre grazie a un camper che ci è stato prestato dall'Unione Italiana Ciechi di Spezia gireremo diverse piazze del Tiguglio perché il nostro motto è certamente cercare di integrare i nostri ragazzi sia in ambito scolastico che in ambito lavorativo ma ancora più importante è la prevenzione alle malattie agli occhi che purtroppo oggigiorno sono sempre più frequenti e vengono scoperte sempre troppo tardi quindi in linea anche con quelle che sono le esigenze economiche e storiche che stiamo attraversando vogliamo offrire un servizio importante alla cittadinanza garantendo una visita oculistica professionale con dei professionisti del settore assolutamente gratuita in questo caso è proprio giusto dire che la prevenzione è importante perché talvolta le malattie legate agli occhi quando si scoprono tardi difficilmente si possono guarire invece si possono ottenere grandi vantaggi se si scopre appunto in tempo guarda questo è l'aspetto a mio avviso più importante perché molto spesso quando arrivano i primi sintomi legati a malattie agli occhi è troppo tardi per fare qualcosa e quindi a volte magari riuscire a fare una visita in più e un controllo in più in questo caso ancora più facile perché il controllo sarà completamente gratuito potrebbe essere fondamentale e quindi ti riporto anche un dato che è stato scoperto che abbiamo appurato negli ultimi anni alcuni casi addirittura di tre malattie scoperte in anticipo scoperte prima siamo riusciti a tamponarlo grazie all'aiuto naturalmente dei nostri professionisti e oculisti che si prestano assolutamente gratuitamente in questo servizio e direi che questa è la cosa più importante a volte quando purtroppo arrivano i primi sintomi è sempre troppo tardi e naturalmente viviamo anche in un mondo dove c'è molta tecnologia e quindi con l'avanzare dell'età soprattutto l'abbassamento della vista purtroppo sta diventando un fattore col quale si deve convivere ricordiamo le piazze allora a partire da lunedì saremo da lunedì primo giugno fino a domenica 7 giugno partiremo lunedì a Santa Margherita in piazza Mazzini poi il 2 saremo in piazza Matteotti a Chiavari il 3 saremo a Sori il 4 nuovamente a Chiavari a fianco al cinema Cantero il 5 invece saremo a Rapallo davanti al chiosco della musica in passeggiata mare il 6 ci inoltreremo a Mezzanego il 7 chiuderemo qui a Lavagna l'orario? dalle 9 del mattino fino alle 12.30 poi ci sarà naturalmente una piccola pausa pranzo e si partirà dalle 14.30 fino alle 17 ti dico che per il momento non è necessario attuare alcuna prenotazione è chiaro che la situazione è in divenire naturalmente in caso ci fosse un grande nucleo di persone che abbiano il desiderio di visitarsi daremo dei numerini da rispettare però per il momento se vi presenterete al giusto orario di apertura delle visite sarete certi del posto subito questi sono giorni per le prime sagre nel nostro territorio a Levi quattro giorni di festa organizzata dalla locale squadra di calcio che milita in prima categoria nell'area del campo sportivo San Bartolomeo di Levi ad orario inizia la sagra dopo Orcu e che proseguirà per tre serate e infine a Sori precisamente nella frazione di Teriasca prosegue la sagra delle acciughe seconda parte del nostro telegiornale 95 treni in più per le 5 terre e Sesti Levante per il ponte del 2 giugno per il ponte del 2 giugno 95 treni in più per le 5 terre e Sesti Levante ad annunciarlo Trenitalia a seguito di un accordo con la regione Liguria che contribuirà anche economicamente in vista dell'arrivo dei turisti saranno in tutto 95 le corse aggiuntive per le 5 terre tra oggi e martedì 2 giugno mentre 42 collegamenti previsti nelle giornate di oggi domani domenica e festivi si aggiungono 52 corse straordinarie finanziate dalla regione la corsa speciale Sesti Levante Milano novità assoluta nell'ambito del trasporto regionale è già provata il 26 aprile e il 3 maggio scorso in partenza dalla riviera Ligure nel pomeriggio del 2 giugno primo caso di treno regionale i cui costi di produzione sono a totale carico di Trenitalia i biglietti avranno prezzi maggiori rispetto alle tariffe regionali ma costeranno 3 euro quelli per i treni intercity che compiono lo stesso percorso il convoglio partirà da Sestavante alle 17.43 con arriva Milano Centrale alle 20.20 il treno con 600 posti a sedere fermerà le stazioni di Chiavari Rapallo Santa Margherita Ligure Camogli Voghere e Pavia saranno inoltre potenziati per tutto il fine settimana nei presidi di assistenza e manutenzione in tutte le principali stazioni Liguri e rafforzata la sala operativa regionale attiva 24 ore su 24 L'associazione culturale La Gorà di Lavagna continua a collaborare con la casa famiglia Gulliver di Borghetto Vara provincia di La Spezia e promuove una raccolta di generi alimentari a lunga scadenza che potranno essere consegnati entro la fine del mese di giugno presso tre punti di raccolta l'elettricista Canepa di via Natale Paggi la farmacia di Cavi sulla via Aurelia e la libreria Fieschi di via Dante e questa mattina si è svolto un flash mob a Chiaveri un gruppo di cittadini ha deciso di partecipare alla mobilitazione globale per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e formare un movimento globale per il clima in grado di chiedere un futuro energetico 100% rinnovabile e libero dai combustibili fossili prima che sia troppo tardi per questo motivo è stato organizzato come detto questa mattina in via Marti della Liberazione davanti a piazza Mazzina Chiaveri un flash mob che consisteva nel far finta di dormire per terra con uno stoino di far suonare le sveglie tutte alla stessa ora e successivamente alzarsi in piedi e mostrare a tutti un cartello e torniamo a Expo 2015 che è stata una grande vetrina per il Tiguglia in particolare per Lavagna ma dopo Lavagna appunto parliamo un po' di Sessi Levante con il Festival Anderson che ormai è alle porte infatti la rassegna della Città dei Due Mari inizierà il 4 giugno Expo di Milano per il territorio di Sessi Levante è anche l'occasione per presentare l'Andersen Festival intanto è partito il conto alla rovescia una manifestazione che attrae ogni anno sempre più grandi e piccoli sì ogni anno migliaia di presenze 30-40 mila persone più di 100 eventi gratuiti che si rivolgono a una fascia molto eterogenea dai bambini alle famiglie agli adulti coppie per molti è un appuntamento fisso non soltanto liguri grazie a Dio quindi anche la capacità di attirare molto turismo e di saper coniugare territorio quindi il valore del territorio con un contenitore culturale che crediamo di grande qualità e che spazia dalla musica al teatro urbano incontri un focus su Sarajevo quest'anno tanti nomi ma non solo quelli Sabina Guzzanti Giobbe Covatta Rocco Tanica Scanio Celestini che sono stati invitati a fare dei progetti quasi in tutti i casi ad hoc sul tema di quest'anno che è la ricerca della felicità insieme a questi grandi nomi anche molto teatro di strada che è un po' teatro urbano anzi ci piace chiamarlo di più che è un po' la peculiarità del festival e invade insomma Sestri diventa un grande teatro a cielo aperto a partire dal 4 giugno a partire dal 4 fino al 7 ci sono spettacoli dal pomeriggio fino alla notte anche all'Expo di Milano si presentano e si mettono in evidenza proprio questi eventi sì sì questa è molto importante essere qua perché è una manifestazione di respiro decisamente nazionale e alcuni nomi sono anche di respiro internazionale quindi mi sembra importante esserci come Liguria come Sestri e come Andersen e poi aggiungiamo un'altra cosa legato all'Andersen c'è un premio letterario molto importante che ha la 48esima edizione mentre il festival è alla 18esima che insomma ha sfornato grandi nomi e che continua a ricevere moltissime fiabe inedite quindi insomma e la premiazione verrà durante il festival e quindi ricordiamo il festival Andersen a Sestri Levante dal 4 al 7 giugno adesso ci spostiamo nuovamente a Lavagna perché ieri come ogni anno presso l'istituto devoto di Lavagna si è tenuta la festa di primavera l'attività dell'istituto devoto attivo dal 1931 è accreditato come RSA presso la regione Liguria è rivolta all'assistenza ad anziani non autosufficienti la struttura è dotata di 124 posti letto la più grande della regione con esclusione di Genova e assicura l'assistenza su 24 ore con personale in possesso dei titoli professionali richiesti dalla legge l'attività esprime le volontà dei vari fondatori delle opere pieri unite cioè delle famiglie devoto e marini di Lavagna e della famiglia Sivoli di Santa Giulia l'azienda tra i più importanti del territorio vi lavorano tra personale interno e quello dipendente dalla società titolare di appalto circa 100 persone il consiglio di amministrazione dell'ente presiduto da Giovanna Carredu recentemente confermata alla guida dell'istituzione e con queste fotografie che raccontano la festa di primavera che si è tenuta come detto a Lavagna all'istituto devoto adesso io vi lascio le previsioni del tempo per la giornata di domani e vi lascio anche la programmazione di Entra TV e vi auguro un buon weekend previsioni per domani domenica 31 maggio in mattinata cielo coperto e qualche debole pioggia sul centro ponente schiarite a Levante attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio con cielo fino a sereno sulle coste dello spezzino ed isolati residui sgoccioli nell'interno venti da sud-est a Levante in calo fino a deboli meridionali la sera mare mosso in calo fino a poco mosso nel pomeriggio temperature previste sulla costa tra i 15 e i 23 gradi nell'entroterra tra i 10 e i 26 gradi